Custodire il Tempio significa questo, vigilanza, servizio e gratuità. E' quanto ha rimarcato Papa Francesco durante la messa celebrata a Santa Marta. Anzitutto quindi è fondamentale vigilare nel Tempio più importante di Dio, vale a dire il nostro cuore, la nostra anima, e servire gli affamati, gli ammalati, i carcerati, quanti sono nel bisogno, perché lì è Cristo. Infine la gratuità nel servizio che si dà nelle nostre chiese, chiese di servizio, chiese gratuite, ha detto il Pontefice, come è stata gratuita la salvezza, e non chiese supermercato. Quante volte con tristezza entriamo in un Tempio, pensiamo, una parrocchia, un vescovato, non so, pensiamo. E non sappiamo se siamo nella cassa di Dio o in un supermercato. Ci sono lì i comerci, anche c'è la lista di prezzi per i sacramenti. Manca la gratuità e Dio ci ha salvato gratuitamente, non ci ha fatto pagare nulla.